Ciao amici, benvenuti al mio canale! Io sono Isabel Love! Oggi apriamo la Barbie Ginnastica! Guardate che bella questa Barbie! E vi ricordo che sul mio canale potete vedere i video delle altre Barbie. Apriamola! Amici, ecco il solito giochino di Barbie che per colorare è un percorso. Ok, ora parliamo della rivista! Vediamo, è bellissima. Vediamo, allora questa è per leggere tutte le istruzioni, per fare dei braccialetti. Questa è la nuova serie di Barbie. Questa è tutto da leggere, la nuova serie. Ok, questo è iniziale del libro. Poi questo che è della tansa, che tu devi fare della tansa. Poi questo è tipo di un po' di Barbie. Questo è quello che ha già Barbie, questo è quello di colorare. E siamo arrivati alla partizione, il poster! Ok, questo è il poster. E questi sono gli sticker. Qua sono quelli dello zoo. Queste, è troppo bello. Questi, questi album di Barbie hanno pure le ricette per che vuoi fare a casa tua. Cioè guarda, tipo, questi ingredienti per fare questi deliziosi di scuola. Finito l'arbum. Ora apriamo la Barbie. Ok, l'ho potuto aprire. Apro, apro. Apro. Questi sono tutti gli accessori che sono venuti con la bambola. Questa è la bambola. Queste sono le sue scarpe, che sono bellissime. Poi, questo leggings. Questi, guardate, è proprio con i brillantini. È bellissimo. Questo orologio, mamma mia. Super di ginnastica. Ora guardiamo l'ula hop, che è per fare l'op, pure le tre, le due pese. Ma Barbie è un cagnolino che può fare pure le pesine piccole, 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 piccole. Pure ha la borsa per mettere tutte le sue cose. Ma pure c'è una barretta di tanti cereali e proteine. E, per ultimo, la borraccia, che proprio non te la devi scordare mai. È bellissima. Amici, spero che questa Barbie biz vi abbia piaciuto. Ricordate che questa Barbie la trovate solo in prima edicola. E come dico sempre in tutti i miei video, sorridi sempre! Ciao!